Nelle scene preesistenti. Come avviene l'immedesimazione nelle scene preesistenti della nostra vita fisica? Commento. L'illusione del movimento con cui noi viviamo le scene della nostra vita è data dalla rapida successione con cui la nostra mente legge le scene che presentano lievi differenze tra la scena precedente e la scena successiva. Tutte le scene sono inserite da sempre nell'eterno presente che non ha tempo. La fluidità dell'immedesimazione nelle scene nei fotogrammi della nostra vita come li chiama il cerchio Firenze 77 dipende dalla frequenza con cui i fotogrammi sono contenuti nelle scene che abbiamo scelto nella nostra vita.